Il concorsone della sanità si è chiuso, si tratta della maxi selezione unificata per l'assunzione di nuovi medici da collocare nell'area dell'emergenza urgenza della sanità calabrese. Attraverso diverse delibere, il commissario dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, Antonio Battistini, ha preso atto della conclusione dei lavori della commissione esaminatrice. Ecco i dettagli delle 6 graudatorie dei vincitori e degli doni, medicina d'emergenza e urgenza, i posti messi a bando erano 145 in graudatoria, i nomi sono 106, 74 specialisti e 32 in formazione, neurologia, i posti disponibili erano 16, i vincitori sono 14, 3 specialisti e 11 in formazione. Ortopedia e tramotologia, i posti disponibili erano 39, i vincitori sono 13. Neuroradiologia, un posto disponibile, 8 in graudatoria, 1 specialista e 7 in formazione. Cardiologia, 9 posti disponibili, in graudatoria sono 51, 13 specialisti e 38 in formazione. Anestesia e rianimazione, i posti disponibili erano 53, i vincitori sono 58, 10 specialisti e 48 in formazione. Il totale fa 250, un po' meno, rispetto ai 263 annunciati qualche mese fa dal governatore Occhiuto, tuttavia quel che conta è l'effettiva presa di servizio. Intanto oggi, al dodicesimo piano della cittadella regionale di Catanzaro, si darà una conferenza stampa sui temi della sanità. Con l'occasione, il presidente della regione, Roberto Occhiuto, presenterà il nuovo commissario straordinario di Azienda Zero, Adolfo Mirendino, illustrerà i numeri del concorsione regionale per camici bianchi e farà un focus sull'ultimo contingente di malati cubani appena arrivato in Calabria. All'incontro con i giornalisti prenderanno parte, oltre al governatore e al nuovo manager di Azienda Zero, i subicommissari alla sanità Ernesto Esposito e Giole Fantozzi, il dirigente generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociosanitari Tommaso Calabro, il commissario dell'ASPE di Catanzaro e Vibo Valenza, il generale Antonio Battistini e l'ICIA Petro Pulacos, consulente del presidente Occhiuto per il PNRR in tema di edilizia sanitaria. Sarò l'occasione anche per fare il punto sulle sfide e sugli obiettivi da raggiungere nel nuovo anno anche alla luce dei rilievi incassati nel corso dell'ultima riunione del tavolo interministeriale di verifica per l'attuazione del piano di rientro.